La didattica è la prima di due che sono dedicate alla diagnosi basata sulla logica. Abbiamo visto nella unità didattica precedente che la diagnosi è basata su una forma di ragionamento che si chiama abduzione, una forma di ragionamento per così dire all'indietro, dai sintomi si risale alle possibili cause dei sintomi, se abbiamo una teoria che collega cause a sintomi, malattie a sintomi, cause a effetti, ma questa forma di ragionamento, a differenza della deduzione, non è corretta nel senso che le cause che vengono adotte, spiegazione degli effetti, le malattie che vengono adotte, spiegazione dei sintomi, non possono essere abdotte con certezza perché non sono conseguenza logica le malattie dei sintomi, le cause degli effetti. Questo approccio basato sulla logica si differenzia con l'approccio classico di diagnosi basato sull'esperienza, sui manuali cosiddetti di troubleshooting, cioè laddove la diagnosi è affidata all'esperienza di chi ha già avuto a che fare con quelle malattie, con quei guasti, ha raccolto tutta una serie di prassi basate sull'esperienza che possono servire ad altre persone per seguire delle procedure che possono aiutare a individuare i guasti, i malfunzionamenti, perché nel modello che vediamo in queste due unità didattiche, sostanzialmente, nell'approccio che vediamo in queste due unità didattiche, non si fa alcun ricorso all'esperienza di persone che hanno fatto diagnosi precedentemente di questi malfunzionamenti, ma ci si basa sul modello rappresentato in maniera formale, in maniera logico formale, del sistema che dobbiamo diagnosticare. Quindi, se dobbiamo diagnosticare un sistema artificiale, il modello chiaramente è ricavabile dal progetto dell'artefatto. Se dobbiamo diagnosticare malattie all'interno del corpo umano o animale, dobbiamo chiaramente basarci su una rappresentazione del corpo umano fatta sempre in maniera formale e quindi bisogna ricavarlo comunque, averlo a disposizione questo modello e la cosa potrebbe non essere facile. Come vedremo, il problema di questo approccio alla diagnosi è che ha una complessità, come quasi tutti i metodi e i procedimenti dell'intelligenza artificiale, ha una complessità esponenziale l'algoritmo per trovare le diagnosi. Il vantaggio è che, non facendo ricorso all'esperienza, è in grado di diagnosticare guastiche all'interno di un sistema che non si sono mai verificati precedentemente. Abbiamo due approcci, vediamo, quindi in due unità didattiche differenti, quello di questa unità didattica è un approccio cosiddetto basato sui principi primi, questo è il nome che gli diede Raymond Reiter nel 97, mi pare, quando pubblicò, no, nel 93, quando pubblicò su artificiali intelligence, questo approccio nello stesso numero anche Declare affrontò lo stesso problema con un metodo praticamente analogo basato sulla TMS. i due approcci presentati nel 93 da Reiter e da Declare sono sostanzialmente evidenti e fra l'altro sono basati su uno stesso algoritmo che vediamo in questa unità didattica e furono anche, questo algoritmo fu poi nel 97, vediamo la presentazione del problema del metodo della diagnosi basata sui principi primi, così come appunto è stato formulato da Reiter in quel articolo. Nell'articolo appunto si parte dalla rappresentazione formale del sistema da diagnosticare, che ha visto come un insieme di formule del primo ordine SD e un insieme di costanti del linguaggio del primo ordine che nominano ciascuna un componente, dove il componente è inteso come un componente atomico del sistema, il quale è predicato di funzionare bene o male, mediante un predicato con un solo argomento, AB, che sta per abnormal, che fu introdotto da McCarthy per descrivere una forma di ragionamento non monotono che lui chiamò circunscription, che vedremo in un successivo modulo didattico, e dicevo che il predicato abnormal ha come argomento una variabile, una costante che sta a rappresentare quindi un oggetto del dominio, questo oggetto è inteso essere un oggetto atomico in qualche maniera, cioè non scomponibile nelle sue parti, del quale si può predicare se sta funzionando bene o se sta funzionando male, quindi in una logica true o false. Per esempio, supponiamo di avere questo artefatto che è un circuito logico, è un full adder composto da, come vediamo, cinque porte logiche, due XOR, due AND e un OR collegati come da schema. Possiamo pensare di rappresentare del sistema innanzitutto nominando con A1, A2, X1, X2, O1 i cinque componenti fondamentali e predicando la tipologia del componente, porta AND, porta XOR o porta OR. poi dobbiamo probabilmente per descrivere, qui stiamo procedendo alla descrizione del sistema, la system description, il sistema che vogliamo diagnosticare, mediante il predicato di uguaglianza possiamo usarlo come descritto qui per formalizzare quelli che sono i collegamenti fra le porte delle, fra gli ingressi delle cinque porte, quindi per esempio possiamo specificare che l'output di X1, del componente X1, è lo stesso valore, ha lo stesso valore dell'input 2 di A2, eccetera. E poi possiamo procedere a specificare le tipologie dei segnali che possono essere in ingresso al sistema, abbiamo tre morsetti in ingresso e i valori della tensione in ingresso può essere O0 o 1, supponiamo, e poi cominciamo a descrivere appunto quello che dovrebbe essere il funzionamento del sistema in condizioni normali. Diciamo per esempio, scriviamo questa formula che se X è una porta AND e non sta funzionando male, cioè è not abnormal questa porta AND, allora il suo output deve essere uguale all'AND dell'input 1 e dell'input 2, cioè descriviamo in pratica il funzionamento di una porta AND. Questa è la regola che definisce il comportamento di una porta AND nell'ipotesi, che è qui uno dei congiunti in antecedenti dell'implicazione dell'ipotesi che la porta in questione non stia funzionando male, cioè stia funzionando bene. Lo stesso per la porta XOR e lo stesso per la porta OR. A questo punto abbiamo completato la system description e potrebbe venire il dubbio che la system description appunto possa essere utilizzata, una system description per la sua logica prima ordine, solamente per degli artefatti. Qui invece voglio dare il senso del fatto che facendo delle opportune approssimazioni, che comunque sono le approssimazioni che qualunque ragionatore, anche umano, potrebbe trovarsi in condizioni di dover fare nel corso dei suoi ragionamenti diagnostici, facendo appunto delle approssimazioni possiamo pensare anche di applicare la logica prima ordine per descrivere dei componenti, dei sistemi che sono naturali e non artefatti. Vediamo per esempio che se X è un adulto e H è il cuore di questo adulto e questo cuore non sta funzionando male, allora la frequenza cardiaca dovrebbe essere compresa di questo cuore fra 60 e 90. E vediamo anche, torniamo ai sistemi artefatti, vediamo anche altre possibili applicazioni, per esempio in un contesto analogico, non necessariamente logico. Oppure qui vediamo un esempio in cui possiamo mettere in corregazione il malfunzionamento del componente C con 1 conseguente malfunzionamento del componente C2, quindi ipotizziamo che ci sia una connessione causale fra malfunzionamenti di due componenti, potremmo utilizzare una forma di questo genere. Interessante perché l'articolo, la trattazione che stiamo adesso presentando, derivante dal primo articolo di Rider, non tratta questo caso, il caso dei Faulty Models, cioè si tratta di spiegare che tipo di comportamento anomalo avrebbe un certo componente. Per esempio, se abbiamo un componente di un certo tipo e questo componente è anomalo, sta funzionando male, allora dovrebbe avere un comportamento di un certo tipo, oppure, 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 oppure di un altro tipo. Qui noi non descriveremo i modi di malfunzionamento dei componenti, semplicemente ci limiteremo a fare delle ipotesi sul fatto che il componente sta funzionando bene o non sta funzionando bene. Bene, allora, dicevo, oltre alla sinistra in description è importante, è fondamentale per fare la diagnosi partire dall'osservazione. Quindi anche l'osservazione, così con la sinistra in description, dovrà essere espressa mediante le formule del primo ordine. E quindi, che cosa andremo a dire? Noi andremo a dire, a rappresentare l'osservazione, che sostanzialmente è, nel caso appunto in esame, è un'osservazione di quelli che sono i valori in input e di quelli che sono i valori in output. Quindi lì formalizziamo, semplicemente con il predicato di uguaglianza, come abbiamo visto, precedentemente. Questi sono i tre valori in input. In base ai valori in input ci aspetteremo di avere sul primo morsetto in uscita uno zero e sul secondo morsetto in uscita in uno. Invece abbiamo esattamente il contrario. Quindi, che cosa abbiamo qui? Abbiamo una contraddizione. Quindi, il primo concetto è questo qui. La necessità di fare diagnosi nasce dal fatto che se mettiamo insieme la system description, la teoria che descrive il sistema, più le formule che descrivono l'osservazione del sistema stesso, da tutto questo nasce una contraddizione. Quindi, se abbiamo questa tripla system description, insieme di componenti e le osservazioni, la necessità di effettuare una diagnosi nasce proprio dalla constatazione della inconsistenza di tutti questi insiemi di formule, cioè SD più OBS. O meglio, se noi prendiamo la system description e gli uniamo le osservazioni più l'ipotesi che il componente C1 non stia funzionando male, quindi stia funzionando bene, così il C2, così il C3, così il Cn, quindi supponiamo che stiano tutti funzionando bene, deriva una contraddizione, deriva il falso. Il T3 Improver, lanciato, trova la clausola vuota. E essenziale principio di razionalità nel caso della diagnosi basata sui modelli è la cosiddetta legge di parsimonia, oppure anche noto come rasoio di Ockham, dovuta fare il padre Guglielmo da Ockham, che occupandosi di tutt'altro argomento di teologia, per minimizzare il numero degli dei di cui c'era necessità di fare ipotesi di esistenza, limitava a tre, padre, figlio e spirito santo, dicendo che non essendoci nessun motivo per supporre l'esistenza di altri dei, oltre a quelli che compongono la Trinità, questo voleva dire che questi altri dei non esistevano. Quindi in generale lui questo principio di razionalità lo formulò in questa maniera e le entità non sono da moltiplicare oltre la necessità. E questo principio di razionalità pervade molta parte dell'intelligenza artificiale, tutta quella parte che fa riferimento a quelli che chiamavo ragionamenti non deduttivi nella unità didattica precedente. Anche quindi la diagnosi sarà basata su questo principio. Una diagnosi quindi sarà un insieme minimale, ecco l'ex parsimonia, di componenti, tale che se io suppongo questo insieme minimale delta di componenti star funzionando male, allora non derivo più la contraddizione dall'insieme di formula di partenza. Questa è la definizione del concetto di diagnosi basata sulla consistenza, che è una forma di diagnosi basata sul modello ovviamente perché il modello è qui nella system description. Per esempio nel caso del full add di prima abbiamo tre possibili diagnosi, è sufficiente ipotizzare che la porta x1 sia rotta oppure, quindi non è necessario fare altre ipotesi, oppure supporre che due porte siano rotte, esattamente la x2 e la 1, oppure ancora la x2 e la 2. Ciascuna di queste tre ipotesi spiegherebbe il malfunzionamento osservato, spiegherebbe perché abbiamo quei valori ai morsetti di uscita con quei valori ai morsetti di ingresso. È evidente però che se noi vogliamo sfruttare completamente le potenzialità della logica primordine per rappresentare il sistema e le osservazioni, quando lanciamo il theorem prover chiedendogli di provare che da quell'insieme di formula non si deriva la contraddizione, quindi non si deriva il falso, avremo i problemi di cui abbiamo ampiamente parlato all'inizio di questo corso relativi alla semidecibilità della logica primordine. Quindi per poter funzionare questo approccio, per poter funzionare sempre, questo approccio ha bisogno di far ricorso a un sottinsieme a un logica primordine, in particolare se non utilizziamo le funzioni forse sarà meglio. Comunque sia rimarranno problemi di complessità computazionale. Adesso vado molto veloce a enunciare una serie di implicanze della definizione di diagnosi sulle quali invito ciascuno a ragionare magari con calma per farsi un'idea propria. Alla luce dalla definizione che abbiamo appena dato possiamo dire che una diagnosi per quella tripla esiste solamente se dalle osservazioni e dall'assistente description, non facendo nessuna ipotesi sulla normalità dei componenti, non si deriva la contraddizione. La diagnosi nulla, vuota, sarebbe l'unica diagnosi se facendo l'ipotesi che tutti i componenti stanno funzionando bene, non si deriva la contraddizione. Se non si deriva la contraddizione vuol dire che non c'è nessuna diagnosi da fare perché non c'è nessun malfunzionamento e quindi l'unica diagnosi è la diagnosi vuota. Questo è anche interessante, deriva sempre dalla definizione di diagnosi, sono tutti toremi questi qui che sono stati dimostrati da Raymond Reiter. Abbiamo che delta è un insieme di componenti che è una diagnosi, cioè che se io li suppongo essere rotti a questo punto non deriva più la contraddizione con l'osservazione. Allora cosa succede? Che io, se io suppongo che stiano funzionando bene tutti gli altri e unisco questa informazione alle osservazioni e all'assistente description, ne seguo come conseguenza logica che ciascuno di quelli, dei componenti che fanno parte della diagnosi necessariamente deve essere rotto. E ancora, delta è una diagnosi solo se è un insieme minimale tale per cui se io suppongo che non siano rotti i componenti che appaiono al complemento di delta allora non derivo più la contraddizione. Dunque, andando verso l'algoritmo, che è quello che utilizzeremo per produrre le diagnosi, il concetto intermedio di cui faremo uso è il concetto di conflict set. Un conflict set per l'insieme di componenti, cioè per una tripla sigma che abbiamo visto prima essere SD, OBS e l'insieme di componenti, è un insieme, un sotto insieme di componenti C, C con I, C con N, tali per cui io non posso supporre che questi componenti stiano funzionando bene senza produrre una contraddizione quindi, ripeto cos'è un conflict set? Un conflict set è un insieme di componenti tali che se io li suppongo, questi insiemi di componenti essere tutti ben funzionanti allora trovo la contraddizione Conflict set è un insieme di componenti che io se suppongo che stanno tutti funzionando bene trovo la contraddizione la C, 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 C sarà minimale se nessun suo sotto insieme è un conflict set esso stesso Allora, a questo punto io, noi possiamo dare delle diagnosi, delle definizioni alternative di diagnosi basate sul concetto di conflict set se delta, insieme di componenti, è una diagnosi e conflict set, C, S è un qualunque conflict set per sigma allora, abbiamo che il CS è un super insieme della diagnosi ed è diverso dall'insieme vuoto perché appunto supponiamo che la diagnosi ci sia e che quindi effettivamente il malfunzionamento osservato ci sia ma quella che ci interessa di più è la definizione di diagnosi basata sul concetto di conflict set che è l'ultima che vediamo qui delta, un insieme di componenti, è una diagnosi se e solo se è minimale a ciò che il complemento di delta rispetto ai componenti non sia un conflict set per sigma cioè un insieme di componenti è una diagnosi se prendendo tutti i componenti che non appartengono alla diagnosi questo complemento non deve essere un conflict set e delta deve essere in ciò minimale detto questo andiamo a vedere come si possono trovare le diagnosi introducendo il concetto ausiliario di ITIN7 dalla insiemistica dato una collezione di insiemi S1 e SN un ITIN7 per questa collezione di insiemi è un insieme di componenti di questi insiemi tale per cui l'insieme H ha una intersezione non nulla con ciascuno degli insiemi S che appartengono dalla collezione in pratica un insieme che abbia un'intersezione non nulla con tutti gli insiemi S1, S2, SN della collezione allora sarà un ITIN7 per quella collezione ovviamente questo sarà minimale l'ITIN7 se nessun altro insieme sarà un ITIN7 per quella collezione di insieme quindi possiamo dire che delta è una diagnosi se solo se delta è un ITIN7 minimale per l'insieme di conflict set per sigma e anche possiamo dire che delta è una diagnosi se è un ITIN7 minimale per l'insieme di conflict set minimali per sigma tutte queste definizioni e toremi la prima è una definizione e gli altri due che vedete qui sono due toremi sono dimostrati da Wright quindi interessante queste due definizioni perché ci danno lo spunto per applicare l'algoritmo e per andare a trovare le diagnosi guardiamo in particolare la seconda anzi la prima una diagnosi è tale se essa è un insieme di componenti che risulta essere un ITIN7 minimale per l'insieme dei conflict set per sigma e quanti saranno questi conflict set? saranno tantissimi per cui probabilmente può essere interessante limitarsi e quindi nel senso della seconda definizione ha i soli conflict set minimali per sigma cosa sono i conflict set minimali? sono insieme di componenti tali che io non posso pensare che sono tutti ben funzionanti perché senza che produrre la contraddizione un conflict set minimale se nessun suo sottinsieme proprio è un conflict set quindi se io prendo solo i conflict set minimali saranno di meno ovviamente i conflict set e io prendo gli ITIN7 minimali di questa collezione di conflict set minimali ebbene tutti gli ITIN7 minimali delle conflict set minimali sono le diagnosi e allora sostanzialmente a questo punto andiamo a vedere l'algoritmo per poterle determinare che chiaramente si baserà sull'uso di un theorem prover prima di andarlo a vedere vediamo che se andiamo a trovare i conflict set per l'insieme del full ladder che abbiamo visto in esempio abbiamo due conflict set uno è costituito da x1 x2 e un altro consiste da x1 a 2 e a 1 cioè e sono tutte e due minimali questi sono i due minimali cioè se noi lanciamo il theorem prover e mettiamo nel theorem prover potrebbe anche essere un interprete prolog un meta interprete basato sul prolog lo vedremo in una successione italiatica se diamo l'ipotesi che x1 e x2 non stiano funzionando bene non stiano funzionando male cioè stiano funzionando bene abbiamo una contraddizione lo stesso se supponiamo che stiano funzionando bene x1 a 2 e a 1 troviamo una contraddizione non ci sono altri conflict set minimali a questo punto gli hitting set minimali di questi due conflict set per cui x1 perché li becca tutte e due oppure x2 o 1 perché x2 o 1 li copre tutte e due ed è minimale in ciò oppure ancora x2 e a 2 perché insieme x2 a 2 copre tutte e due i conflict set ed è minimale in ciò essendo solo due hitting set minimali essendo due confi set minimali essendo tre hitting set minimali dei due confi set minimali ecco che queste tre sono le uniche tre diagnosi del sistema che dobbiamo diagnosticare allora l'algoritmo per produrre e per andare a cercare gli hitting set minimali di una collezione di insiemi è stato prima introdotto nel 93 da writer e nel 97 è stato perfezionato e non mi ricordo da quali autori ed è quello descritto in qui in questa slide e lo potete guardare con calma io adesso cercherò di illustrare il funzionamento richiamando qui la parte centrale dell'algoritmo cercando di seguirlo passo passo ecco questo è un algoritmo di insiemi di cui io sia a conoscenza gli hitting set saranno restituiti come percorsi lungo un albero che sarà costruito con strategia bread first eccoli qua i percorsi che saranno restituiti gli hitting set avranno nome H dunque che cosa cosa succede dobbiamo partire dalla collezione di insiemi di cui vogliamo calcolare gli hitting set nel caso nostro questa collezione di insiemi saranno una collezione di conflict set quindi ciascuno di questi insiemi è stato prodotto da un tier improver che è stato lanciato con la system description le osservazioni e l'ipotesi che un certo numero di componenti un certo insieme di componenti non è considerato guasto e il tier improver ha restituito una contraddizione e quindi questo significa che quell'insieme di componenti non può non essere considerato guasto e quindi sono dei conflict set allora l'algoritmo è un algoritmo che cicla su due passi sostanzialmente che sono abbastanza però articolati ciascuno e il miglioramento che c'è stato nel 97 è stato un miglioramento più che altro nella descrizione ma che ha messo in evidenza l'efficacia di una potatura che stiamo adesso per illustrare direttamente con un esempio allora si parte da un albero che non ha nodi h di n è l'insieme degli etichetti degli archi dalla radice fino ad n dunque partiamo con un nodo che sarà come vedremo etichettato con un nodo con un flick set uno qualunque e il percorso dalla radice a quel nodo essendo lui la radice ovviamente è un percorso vuoto tenendo presente che h n è vuoto per la radice dell'albero e andiamo quindi nel passo uno di questo algoritmo generiamo un nodo n0 chiamiamolo e generiamo appunto il nodo e poi lo andremo a etichettare nel passo successivo e sia c è il primo elemento di c c è la collezione di conflitset e quindi c è un conflitset per cui questo c ecco questo conflitset uno qualunque di questi conflitset abbia intersezione nulla con con l'h per il nodo in questione ora il primo nodo ha un etichet vuoto e quindi interseccato con qualunque di questi conflitset qui abbiamo un esempio che utilizzeremo l'insieme di conflitset che utilizzeremo in questo esempio ne possiamo prendere uno qualunque insomma e quindi etichettiamo etichettiamo il nodo radice di questo albero con uno qualunque di questi conflitset con il primo elemento che troviamo e dopodiché bisogna andare a vedere se esiste un altro nodo n' ma non esistono altri nodi n' primo per cui tutto questo if qui non viene preso in considerazione si etichetta n quindi con questo conflitset prendiamo quindi a b e etichettiamo il primo nodo con a b a questo punto andiamo al passo 2 se n etichettato con un certo conflitset allora per ogni elemento di questo conflitset in questo caso a b dobbiamo far uscire un arco verso un nodo n' un altro nodo quindi qui abbiamo due elementi in n0 a e b e quindi facciamo partire un arco a un arco b etichettato a un arco etichettato b verso due nodi che chiamiamo n1 e n2 ma non etichettiamo perché dobbiamo etichettarli al passo successivo e ok allora al passo successivo andiamo a vedere innanzitutto se vale questo if se esiste un nodo n' etichettato con lo spunto non c'è perché ancora non c'è nessun nodo etichettato con lo spunto e quindi andiamo all'else andiamo a vedere quest'altro che abbiamo visto prima questo if andiamo a cercare un conflict set che è intersecato con il percorso in questo caso per il nodo 1 è costito dall'unico elemento a abbia intersezione diversa dall'insieme vuoto e quindi oltre a quello che abbiamo già preso ce n'è un altro che è bc e quindi possiamo etichettare il nodo n1 con bc e etichettato quindi questo nodo con bc al successivo passo 2 facciamo uscire da questo nodo due archi un etichettato nodo b un etichettato c che andranno verso altri due nodi dopodiché andiamo etichettare anche il nodo n2 di nuovo il nodo n2 va etichettato con un elemento della collezione di insiemi in questo caso il conflict set che abbia intersezione nulla con con l'arco che è il percorso che va dalla radice fino al nodo in questione in questo caso è costituto dal solo arco b e quindi prendiamo il conflict set ac perché non ha b dentro non ha intersezione nulla con b e dopodiché anche in corrispondenza di questo nuovo nodo n2 andiamo a generare un arco uscente per ciascuno degli elementi che fanno parte del conflict set con cui è stato etichettato quindi per c generiamo un nuovo nodo e invece per a dovrebbe partire un arco etichettato a che dovrebbe andare verso un nuovo nodo ma in questo caso parte questo else del passo 2 che se c'è un nuovo dice che se c'è un nuovo questo if chiedo scusa che se c'è un n' tale per cui il percorso di questo n' dalla radice fino a lui è uguale al percorso per questo nodo di cui stiamo calcolando il nodo figlio unito l'arco che sta uscendo a questo nodo allora invece che generare un nuovo nodo bisogna far partire un arco che va dal nodo che stiamo considerando fino al nodo che già c'è cioè il discorso è questo che dovremmo generare in corrispondenza del figlio n2 corrispondente all'elemento a un nodo che avrebbe come percorso il percorso b a ma siccome un nodo che ha lo stesso percorso percorso ab che è inverso di b a ma è inteso come insieme quindi lo stesso insieme percorso avrebbe ab b a allora invece che generare un nuovo nodo l'arco lo mandiamo direttamente al nodo che già è in essere n3 non è stato etichettato ma c'è già un nodo n3 che ha ab ovvero b a come percorso e quindi abbiamo che da n2 andiamo su n3 che era già stato generato come nodo anche se non etichettato ed è un nodo che ha come itin set ab a questo punto dobbiamo andare in bread first a etichettare i nodi n3 n4 ed n5 e n3 viene etichettato con lo spunto perché se andiamo a esaminare la collezione dei conflict set abbiamo che per ogni elemento del conflict set abbiamo che l'intersezione con hdn dove hdn per questo nodo sarebbe ab e non nulla perché qui in ab c'è b in bc c'è b in ac c'è a in bd c'è b in b c'è b e quindi non c'è nessun conflict set che ha intersezione nulla con ab e quindi qui mettiamo su n3 e l'etichettiamo con la spunta e quindi questo è uno dei nodi foglie dell'albero che è candidato a restituire un hit in set perché gli hit in set non l'ho detto ma saranno restituiti come percorsi che vanno dalla radice alle foglie etichettate con questo spunto dell'albero che stiamo producendo andiamo adesso etichettare n4 n4 dovrebbe essere etichettato con un hit in set che non ha intersezione con ac questo non è questo non è perché c'è ac questo non è ecco bd non ha intersezione con ac e quindi viene etichettato n4 con bd e quindi per in corrispondenza a questo nodo ci saranno due figli uno con l'arco b uno con l'arco d poi dobbiamo andare a etichettare anche il nodo n5 dobbiamo cercare un un conflis set che ne abbia intersezione nulla con bc qui no qui no qui no qui no e qui no quindi di nuovo in n5 ci sarà lo spunto e quindi questo è un altro nodo candidato a generare a restituire un hit in set e a questo punto abbiamo andato a generare un figlio a etichettare n6 e cosa succede che abbiamo che il percorso che va n6 è a c b e in questo caso il parte del primo if se esiste un nodo n1 che è etichettato con lo spunto che è tale per cui il il hit in set corrispondente cioè il percorso corrispondente a questo nodo etichettato con lo spunto è un sotto insieme del percorso che stiamo associato al nodo che stiamo etichettando allora chiudiamo questo nodo con quest'altra chiusura quindi è una potatura facciamo punto adesso andiamo quindi a etichettare n7 n7 dobbiamo cercare un conflict set che abbia intersezione nulla con a c d in effetti non è questo perché c'è l'a non è questo perché c'è l'a c qui c'è l'a che c qui c'è l'a d l'unico hit in set che può essere utilizzato per etichettare n7 è l'hitting set b e quindi lo facciamo però a questo punto ci accorgiamo al ciclo successivo che esiste un n primo etichettato con un conflict set c s primo che può essere a b può essere anche b c può essere b d c'è n'è più di uno che è un super insieme di 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 questo conflict set che abbiamo appena appena inserito qui c'è a b che è un super insieme di b b c e anche b d e quindi cosa possiamo fare ne prendiamo uno quello più in alto possibile anche se qui non c'è scritto ma questo è un criterio abbastanza scontato più in alto possibile nel nei livelli dell'albero e e che cosa facciamo lo andiamo lo eliminiamo cioè prendiamo quindi n 0 che è a b che è un super insieme di b e come c'è scritto qui rietichettiamo questo n primo con questo nuovo conflict set quindi viene etichettato b la radice dell'albero a questo punto dobbiamo eliminare tutti i nodi che fanno parte dei sottoalberi che non hanno più ragione di partire da questo nodo perché da questo nodo partivano due sottoalberi uno come radice con arco a e uno con arco b ma adesso qui a non c'è più e quindi tutto il sottoalbero appeso all'arco a lo dobbiamo eliminare meno quei nodi meno quei nodi che rimangono comunque attaccati all'albero perché sono raggiungibili da altri percorsi come per esempio il nodo n3 anzi è l'unico in questo caso che rimane comunque attaccato all'albero perché era figlio non solo del nodo n1 ma anche del nodo n2 quindi a questo punto abbiamo generato un albero in cui le foglie sono tutte quante spuntate e quindi non può essere più ulteriormente sviluppato l'albero e gli tinset che dobbiamo restituire sono quelli associati appunto a questi nodi foglia e quindi sono i percorsi che vanno dalla radice fino a questi nodi foglie quindi gli tinset saranno AB e BC quindi in pratica quello che abbiamo fatto sostanzialmente è questo abbiamo generato dei conflitset che come ho specificato qui potevano anche non essere minimali utilizzando un Teore Improver lanciandolo ogni volta con un insieme di componenti che erano candidati in qualche maniera a diventare un conflitset li abbiamo generati e adesso dobbiamo andare a cercare le diagnosi le diagnosi saranno i minimal tinset di questo insieme di conflitset che guardate non è minimale perché trovare quelle minimali potrebbe essere vero che poi si riduce il numero di conflitset però è anche vero che si fa del lavoro in più per cercare i minimali quindi non è scontato che lo si debba fare in ogni caso se noi andiamo a cercare i tinset minimali di questa collezione di tinset sicuramente troveremo se questi erano tutti i conflitset del problema quelle che andremo a trovare saranno tutte le diagnosi minimali e quindi abbiamo trovato le diagnosi con l'algoritmo precedente le diagnosi erano AB e BC come abbiamo visto qui è riportato l'effetto della potatura che rende questo algoritmo particolarmente efficiente nel caso del full ladder per i conflitset che avremmo generato lanciando un tier improver a partire dalla system description le componenti e le osservazioni e il tier improver ci restituisce il conflitset minimali x1 x2 e quindi facciamo partire un arco x1 e un arco x2 a questo punto lanciamo un tier improver di nuovo togliendo dai componenti x1 e perché per l'algoritmo che abbiamo visto prima perché stiamo cercando un conflitset che abbia intersezione nulla con il percorso in questo caso è costituito da x1 quindi togliamo da comps la componente x1 lanciamo il tier improver il tier improver ci restituisce nil quindi vuol dire che non riesce a a trovare un conflitset cioè in pratica non è contraddittorio il tripla sd comps meno x1 e ops non trova la clausola vuota non trova la contraddizione e quindi spunta con chiude qui lo sviluppo dell'albero e in pratica ha già trovato una diagnosi che è il percorso dalla radice fino a questo nodo x1 sul lato x2 si lancia di roma il tier improver togliendo a comps x2 e si trova quest'altro insieme di tre componenti x1 a2 o1 che è un conflitset non minimale come sappiamo perché non era un conflitset minimale comunque viene etichettato questo nodo in questa maniera dopodiché si scende lungo x1 e si va a trovare un conflitset togliendo da comps x1 x2 e poi lungo questa strada si toglie da comps x2 e a2 e si trova la si chiude qui si trova la diagnosi e qui un'altra diagnosi in pratica perché non c'è il conflitset qui non c'è il conflitset qui e quindi in pratica abbiamo trovato tutte le diagnosi perché le diagnosi sono x1 x2 a2 x2 o1 bene allora con questo chiudiamo il capitolo questo di dati dedicato alla diagnosi basata sulla consistenza abbiamo trovato sostanzialmente tutti gli insiemi minimali di componenti che dobbiamo ipotizzarli tutti quanti essere guasti per poter spiegare l'osservazione il malfunzionamento osservato e quindi qui chiudo questa unità didattica nella prossima unità didattica vediamo alcune problematiche che questo approccio alla diagnosi lascia aperte e vediamo un altro approccio alla diagnosi che utilizza direttamente l'abduzione e il tiro improving per effettuare esattamente la stessa operazione cioè cercare sotto insieme minimali di componenti che dobbiamo ipotizzare essere guasti per spiegare il malfunzionamento osservato per spiegare per spiegare